Tra i sindaci firmatari della lettera Appello per chiedere a Mario Draghi di restare al governo c'è anche Gian Guido D'Alberto, primo cittadino di Teramo. L'idea degli oltre mille sindaci firmatari è quella che Draghi porti l'Italia al voto solo alla scadenza naturale della primavera 2023, in modo da completare i punti fissati nell'agenda di governo. Ho aderito alla sollecitazione di tanti colleghi, in particolare i colleghi dell'Ali, che hanno diffuso e sviluppato questa proposta che è venuta dal sindaco di Milano, dal sindaco di Firenze, in un momento molto particolare per il nostro paese. In questa fase storica io credo che tutte le forze politiche in questo momento di maggioranza e che con responsabilità stanno portando avanti un governo che deve portare a compimento l'attività, l'azione del PNRR, che è fondamentale ovviamente per i nostri territori. Fronteggiare la pandemia e gli effetti e le conseguenze della guerra devono assolutamente, pur mantenendo ciascuna la propria identità e rappresentando anche le cose che devono essere migliorate e che non vanno, quindi portando avanti la linea, però cercare assolutamente di trovare una sintesi. In questo momento destabilizzare il sistema, il paese non è assolutamente una scelta che ci fa stare sereni e poi devo dire che il governo attuale è un governo che comunque ha sempre riconosciuto il ruolo centrale dei sindaci, anzi la priorità dei sindaci, dei comuni, sia per quanto riguarda la tenuta del sistema, lo abbiamo dimostrato, e anche per quanto riguarda la capacità di realizzare gli obiettivi del PNRR. Ecco perché questo patto istituzionale che si è costruito nel corso di questi ultimi anni deve essere alimentato, ma oggi è il momento assolutamente di trovare una sintesi o una soluzione. La destabilizzazione è assolutamente preoccupante. Per il sindaco di Teramo la situazione economica attuale del paese non permette assolutamente dei rallentamenti sugli interventi che il governo sta mettendo in campo e tornare al voto ora significherebbe in questa fase perdere tempo che non abbiamo. In condizioni normali non ci sarebbe nulla di strano, di assurdo, insomma le maggioranze finiscono, politicamente possono esserci delle modifiche, delle variazioni che possono determinare una non prosecuzione del governo, oggi non siamo in condizioni normali. Grazie a tutti.